Buonasera, buonasera, grazie mille. Abbiamo fatto questo video per sfatare i luoghi comuni sull'Italia. I luoghi comuni sull'Italia sono tanti, sono quelli che avete visto. I luoghi comuni sull'Italia, per dirla come diceva prima Troisi nel filmato, che siamo un paese pizza e mandolino, un paese che non siamo proprio per nulla, siamo la quinta potenza manifatturiera del mondo, la seconda in Europa. Siamo un paese che vende soprattutto macchine industriali, pochissime persone lo sanno, quindi un paese di innovazione tecnologica che nasce sulla catena di montaggio. Questo video che avete visto l'hanno visto quasi 30 milioni di persone in giro per il mondo, l'abbiamo fatto per loro e poi è diventata una cosa importante per noi. Per noi perché niente può far funzionare l'internazionalizzazione di un paese se non c'è prima una chiarissima coscienza della propria identità, un rispetto profondo dei propri valori, di chi siamo, di cosa facciamo e di cosa rappresentiamo nel mondo. Questo paese ogni tanto ha difficoltà a ricordarselo. Questo non è solo quello che noi dobbiamo al mondo nella rappresentazione dell'Italia, ma è quello che dobbiamo a noi italiani nella rappresentazione di noi stessi. La globalizzazione in Italia è stata vissuta per anni come un fenomeno da cui difendersi e badate bene, la globalizzazione è tante cose, è anche un fenomeno da cui difendersi quando non è equa, quando è squilibrata, quando non funziona. Ma se c'è un paese che può dalla globalizzazione giocare una partita in attacco quello è l'Italia. E non sono a dirlo io, non faccio una retorica, sono a dirlo in numeri. Il nostro export cresce molto più di quello della Francia, dal 2011 al 2014 il tasso medio di crescita è stato quasi tre volte quello della Francia. Cresce vicino a quello della Germania, noi siamo il paese dopo la Germania aver visto ridotto di meno le nostre quote di mercato in un quindicennio che ha visto l'ingresso della Cina, dell'India, del Brasile. E vedete anche qui noi siamo spesso i peggiori nemici di noi stessi. Io dieci anni fa in un altro ruolo, ero in Confindustria quindi il lato oscuro della forza diciamo, portavo in giro per il mondo missioni imprenditoriali e quando andavamo in India o in Cina molto spesso per prima la stampa italiana diceva ma cosa fanno questi che portano 300 piccole imprese in Cina o in India quando va a star così si porta le multinazionali, i missili, le navi eccetera. Bene, la Francia giocando solo sui campioni nazionali ha distrutto il tessuto di piccole e medie imprese che in Italia rimane forte e vitale, fondamento della nostra crescita economica. L'altra cosa che si è sempre detta della globalizzazione è l'industria sparirà dai paesi avanzati, saremo paesi di servizio e i paesi come noi che del saper fare dell'industria fanno il loro DNA, il cuore della loro attività, sono destinati a morire. Non sta succedendo, sta succedendo l'opposto. Sempre di più consumatori vogliono prodotti qualitativamente di grande livello con attenzione alla sostenibilità ed è per questo che le performance del nostro agroalimentare, della nostra moda e anche della nostra tecnologia, avete visto i beni farmaceutici cresce così tanto. Ma allora va tutto bene, possiamo stare sereni e tranquilli per nulla. Innanzitutto perché non abbiamo investito a sufficienza, questo è il primo governo ad aver investito una somma dignitosa per promuovere e aiutare le piccole e medie imprese ad andare all'estero. Pensate, quando io sono arrivato al governo il totale del budget per il made in Italy era di 23 milioni di euro, avevo più budget in Sky quando lavoravo in Sky nel marketing, avevo più budget in Ferrari quando lavoravo in Ferrari per fare gli eventi in giro per il mondo e 23 milioni per promuovere tutte le filiere italiane. Quest'anno noi abbiamo investito 260 milioni di euro, per la prima volta. Sono sufficienti, per me mai, ma diciamo sono giusti, è quello che investono gli altri grandi paesi. La globalizzazione noi la vinciamo se giochiamo in attacco. In attacco vuol dire che il Presidente del Consiglio per la prima volta prende un aereo e va in paesi come Colombia, Cile e Perù, che sono paesi straordinari per il nostro export, dove ancora siamo poco presenti, o che andiamo insieme in Etiopia, in Angola, in Mozambico, paesi che domani rappresentano il bacino del nuovo sviluppo internazionale. Ora, questo lavoro come si fa? Ecco, qui abbiamo cercato di portare un cambiamento di passo. Abbiamo cercato di portare un cambiamento di passo spiegando che promuovere l'agroindustria non è fare i wine tasting nelle ambasciate, perché non serve assolutamente a niente una perdita di soldi, di reputazione. Oggi noi dobbiamo portare i prodotti sugli scaffali della grande distribuzione americana, dove non ci arrivano. Allora, per questo facciamo quest'anno un grande piano con i distributori, per questo facciamo un video che è partito in questi giorni, prendiamo tutta Times Square sotto Capodanno per spiegare perché il prodotto italiano vero è il prodotto che ha un valore aggiunto. Perché se non si gioca in attacco, se siamo solo a lamentarci sul fatto che ci copiano i prodotti, non andiamo da nessuna parte. Un altro esempio sono le fiere. Questo Paese ha molte più fiere di quelle che servono. Ogni comune d'Italia si è fatta una fiera e non ci si possono portare buyer internazionali. Io recentemente, non so se c'è qualcuno della Puglia, mi hanno chiesto perché non organizzi una fiera internazionale a Foggia, ma come ci riporto i buyer? Li parà caduto sulla rotta per Bari? Allora questo tipo di spreco ha distrutto il modo di presentarsi sistemico dell'Italia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto che noi aiutiamo le fiere, le manifestazioni, non i quartieri fieristici. I quartieri fieristici non ce ne frega niente, le manifestazioni fieristiche, ma quelle che sono leader, quelle che ce la possono fare e quelle che ce la devono fare. E se la Puglia non ha, adesso non voglio fare un esempio solo della Puglia, ma se la Puglia non ha una manifestazione fieristica che può competere a livello internazionale, in Puglia non si investe, perché il ragionamento secondo cui bisogna dare un euro a tutti quanti per farli contenti e non concentrare le risorse è quello che ha portato al declino industriale questo Paese. Finisco, finisco. Io rientro ieri dall'Etiopia. L'Etiopia è conosciuto come un Paese di carestie, ed è anche questo, ma cresce a un tasso del 10% da anni, è un Paese di 100 milioni di abitanti, la più grande diga di quel Paese che cambierà la possibilità di sviluppo di quel Paese la fa un'azienda italiana. Tre settimane fa eravamo in Iran, è un Paese difficile, complicato, da cui ci dividono molte cose, ma è un Paese chiave di quell'area. Abbiamo portato 371 imprese a fare mille incontri di business, i francesi e i tedeschi non ci si sono neanche avvicinati lontanamente in termini di numeri. Domani parto per la riunione del WTO in Kenya, di cui quest'anno l'Italia è vicepresidente per i Paesi avanzati e sta cambiando tutto il modo in cui la governance dei trattati internazionali, il multilaterale, l'apertura dei mercati si sta muovendo. Questa è una partita complicatissima, non è una partita facile. Io chiudo dicendo questo, non vengo dalla Leopolda, non vengo neanche dalla politica, anzi come ho detto a Matteo ogni tanto, avendo cofondato Scelta Civica si sa per certo che di politica non capisco niente. Avendo detto questo voglio dire che la Leopolda può essere anche questo, il posto in cui tutte queste complessità, che ce ne sono tantissime, si leggono in modi diversi, certe volte opposti e si ragiona su quello che può essere il ruolo del nostro Paese in questo contesto. Ed è una cosa straordinariamente bella, io vengo dal settore privato, sempre stato nel settore privato e spesso quando incontro le persone da colleghi, ex colleghi mi dicono ma come ti viene in mente? E io dico quello che dico concludendo qui, non c'è onore più grande di quello di accompagnare centinaia di piccoli imprenditori in giro per il mondo che sono la parte dell'Italia che ha il coraggio, che non ha mai dismesso le armi e quello che ci porterà in questo secolo a testa alta nonostante tutti, cinesi, brasiliani, russi e grandi potenze, perché c'è una cosa che noi abbiamo e che nessun altro ha, ed è quella cosa che retoricamente chiamiamo made in Italy, ma che è il luogo ideale dove la cultura, l'industria e il saper fare si uniscono, questa roba è richiestissima nel mondo, lo sarà sempre di più, dobbiamo solo smetterla di fare casino, diciamolo pure così, metterci a lavorare in maniera seria come cerchiamo di fare, il giudizio sospetta ai cittadini e agli imprenditori, ma le carte ce le abbiamo tutte. Grazie.